123 ciac se che sta a fare che mandillo allora o essendo che ciò il nipotino che comincia a camminare camminare quasi no ma usara bata e dove sta praticamente ci sono delle scale allora a questo punto vedo di fare un cancelletto in maniera che lui non possa andare cadere giù dalle scale quando eventualmente poi proprio camminerà va bene quindi niente cominciamo questo progettino allora ho trovato dei dei legni questi legnetti qua ora li taglierò tutti a misura e poi e poi vediamo un po' ok ora essendo che ci sono di quelli devo creare il diciamo l'incastro per poterli poi attaccare sotto il legno allora mi sono costruito un marchigegno per poter effettuare questa lavorazione ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a trovare il legno che va sotto. Allora, adesso ho tagliato le due, questa qui sarebbe la parte... Mamma mia, questo casino sempre... Sarebbero i due superiori. Ora devo tagliare le parti laterali perché è quello che poi andrà a incastrarsi. Allora, questo chiede l'entrambe lì. Chiede l'entrambe lì, vediamo un po' se ne troviamo qui l'entrambe. Allora, eccoli. Praticamente viene messo in questa maniera. Allora, la misura della... Quello che va qua, il laterale, deve essere la misura di questo... In poche parole... Deve essere... 51... E 4... Ok. Ora andiamo a cercare il legno. Allora... Ok. Stai lì. Adesso... Qui diventerebbe così... Questo diventerebbe che mi ha rotto le palle... Ah... Questo diventerebbe così... Così... Ok. E in mezzo... Ci mettiamo... I suoi... I suoi cosi... Eh? E in mezzo... 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 e 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 l'abbiamo assemblato con un po' di fatica adesso facciamo asciugare e voilà